Per oggi, diciamo, è qui, diciamo, come è premiato, è premiato in mezzo di attore e abbiamo una clip. Abbiamo una clip? Allora, vediamo la liturgia con la buona azione, vediamo la liturgia. Ma come non l'hai fatto quando è mezzanotte? Ah sì, una volta forse, da ragazza. E non ti ricordo di voler al bello, l'acqua che ti avvolge, non vedi niente, solo i riflessi della luna. A parte che di solido ci si tuffa nudi. Vabbè, nuovo inverno, quindi a mare non si può andare, però ci stiamo sempre vedendo. Tu ci vai mai? Vai chi? E io? No, io ce l'ho apprezzato un po' a San Mosaico. E che c'era? Una bella sferzata di acqua fredda e si mette tutto in ciscolo. Vabbè, io voglio portare queste cartine con i mali. Ci vediamo dopo. Sì. Ma com'è? Fino a ieri appena ci vediamo insieme, diventava verde di rabbia. E mo' se ne aveva in economato, come se niente fosse. Si vede che è molto preso dal lavoro. C'è un maledizio? Due scartocche e si diventi la figlia di me? Ma che ne so? Quanti? Quotizzato. E certo. Io mi gioco la felicità in amore, lui quotizza. Invece di darti un giudizio da uomo? Mi spiace, ma io ci capisco. E allora, gli appassionati di un buon soltore l'avranno sicuramente riconosciuto. Chiamo per la premiazione Presidente della Fondazione Ingegneri per il Peppino Culturali, Arte e Tecnologie, l'ingegnero Reggi Vinci. Ancora qui sul palco. Assegniamo il premio Albatros, speciale cultura per la televisione, a Cosimo Alberti. E' un buon giorno. E' un buon giorno. Marezza, mentre arriva l'initivazione... Fittiamo per leggere, per essere in grado con le sue performance di far rivivere il fascino antico della tradizione partenopea, magistralmente raccontata e strutturata in preziose opere letterarie. Ecco qua, arriva anche il premio. Vieni, diciamo di coinci, questo qua, metti l'attima qua, che poi lo diamo al Presidente. Ecco qua. Il premio. Il segna. Benissimo, le foto. Questo lo prendo io, grazie a te lei, anche, il diploma, per una motivazione. Allora, ce l'hai anche con la mano per il diploma, per dirci dove... Allora, il Presidente mi aiuta. Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera, buongiorno. La partiglia che crea questo... Sì, bravo. Io volevo ringraziare tutti per questo pensiero, per cui mi avete pensato, me l'avete convenito, sono orgoglioso e contento. Ecco, c'è un aneddoto stamattina. Io e il Presidente abbiamo fatto la rissata in un posto. Allora, me l'avete scherzato. Non l'avete... Il destino ha voluto darci lo stesso posto, tu lo sapeva. A volte mi avete fatto... Non l'abbiamo fatto la posto. Non l'avete rendito. Vabbè, tutto a posto. Io vi ringrazio tanto per questa cosa. Abbiamo fatto la foto con il Presidente. Ci tengo. L'ho fatto. C'è una foto. Mi hai presentato. Ecco qua, da qui. Eh, che... C'è una fase... Ok. E diamo anche... Grazie a voi. Grazie. Se le posiamo anche una tarda al Presidente che ci ospita in questa bellissima... C'è una tarda per lei. Tarda, noi ci diamo. È giusto. È giusto. Va bene. Se facciamo un applauso così di Presidente di Sette. Ciao. Ciao. Grazie mille. Io chiamerei Roberta Cristiana.